Un libro perduto. Un enigma che trascende il tempo. Una caccia all'uomo che deve essere portata a termine prima che sia troppo tardi. Tra la New York di oggi e la Strasburgo del 1400 si giocano i destini di due uomini e dell'intera umanità. La città dei libri proibiti di Tom Harper.